Mi chiamo Federica e sono un'airstylist Dyson. Oggi vi consiglierò vari tipi di styling in base alle forme del viso. Innanzitutto ci tengo a fare due grandi divisioni, tra visi arrotondati e visi strutturati. I visi arrotondati sono quelli che più si prestano a vari tipi di styling, come per esempio un liscio perfetto con Dyson Corral o un liscio morbido con Dyson Airwrap. Un mosso definito con Dyson Corral o un mosso più morbido con Dyson Airwrap. Per quanto riguarda invece i visi strutturati, è consigliato un tipo di styling più morbido. Questo non vuol dire che noi dovremmo utilizzare soltanto Dyson Airwrap per creare uno styling morbido. Possiamo crearlo anche con Dyson Corral. Per esempio, per quanto riguarda il liscio, possiamo creare più volume prendendo delle ciocche più spesse. Possiamo andare ad arrotondare la punta, nella parte finale, ruotando Dyson Corral verso l'interno. Possiamo andare a creare un mosso più voluminoso prendendo le ciocche orizzontali anziché verticali. Per qualsiasi altra domanda, per qualsiasi dubbio, vi invito a scriverlo nei commenti qua sotto e infine vi invito a cliccare su Dyson.it per scoprire tutti gli altri nostri prodotti. Grazie. Grazie.